Lo vedi? Te la prendi tanto con il progresso che avveleni i cittadini. Ma poi tu, che cosa fai per impedirlo, eh? Io dei cittadini me ne infischio, perché ogni cittadino aspira a diventare industriale e avvelenatore del prossimo. Ma voi altri magistrati, non l'avete ancora capito che questo popolo italiano nel nome del quale sentenziate non merita un cacchio? Continuate, continuate a difenderlo!